L'Isgomis è il nuovo portiere titolare del Teramo, intesa raggiunta nelle ultime ore con Giovanni Zichella che ha chiesto e poi ottenuto, mettendoci anche lo zampino per favorire il tutto. L'estremo difensore di 28 anni in scuola Torino e che nell'ultima stagione ha difeso i pali della Paganese nella Girone C di Serie C. Fratello di Alfred, portiere della Spalla, e di Maurice, anche lui stesso ruolo e stessa cantera, quella granata, l'Israel maggiore di quattro fratelli di origine senegalese ma italiane a tutti gli effetti. Tante le esperienze per lui da quando, 19enne, ha iniziato ad affacciarsi alla grande calcio nella società di Cairo. Poi la Prodo anche per lui alla Spalla, come Alfred, ma con meno fortuna. Un lungo peregrinare che lo ha visto anche per un anno emigrare al Poli Timisoara in Romania per poi riaffacciarsi in Italia. Sarà lui a partire con i galloni di titolare e con Lewandowski pronto a subentrare in caso di necessità. Contratto anche per Gomis di un anno, firma attesa brevissimo con il giocatore che ha utilizzato Instagram per salutare la Paganese al termine dell'avventura in Campania. Un colpo che avvicina ancora di più il Teramo verso la definizione completa dell'organico, visto che ad inizio della prossima settimana arriverà in bianco-rosso anche la difensora Alessandro Celli, in prestito dal Pescara, che lo aveva acquistato a titolo definitivo qualche giorno fa dalla Fidelisandria con un contratto triennale. Scadenza 2021, il terzo colpo che diventerà ufficiale presto sembra essere quello di Roberto Ragneri dell'Atalanta. Anche lui a titolo temporaneo, anche lui un profilo giovane. Che il Teramo spera possa dare una mano nella zona nevragica del campo, che ha visto già le conferme di De Grazia e Amadio. Nel frattempo invece Carlo Ilari, ufficialmente un nuovo centrocampista della San Benedettese. Il giocatore è arrivato due stagioni fa dalla Sant'Arcangelo, passa in rosso-blu spostandosi solo di qualche chilometro. Mercoledì intanto comincia la preparazione per il campionato con il Diavolo, che si ritroverà allo stadio Bonolis per l'avvio della nuova stagione, che dovrà per forza essere quella del riscatto.